davanti al modo di affrontare la responsabilità dei nostri governi per le loro guerre cosiddette umanitarie. Ma credo che possiamo fare la faccia disgustata, dovremmo fare la faccia disgustata e dovremmo renderci conto ogni volta che andiamo, dovremmo chiedere conto ogni volta che spendiamo una cosa preziosa come il nostro voto, di come questo voto verrà utilizzato per quello che riguarda le questioni appunto del partecipare a cosiddette missioni di pace, dovremmo ricordare costantemente ai nostri governanti che abbiamo una bellissima Costituzione, un meraviglioso articolo 11 che dice che l'Italia ripudia la guerra e che ci sembra assai poco elegante provare a modificare la Costituzione perché non si riesce a metterla in atto, insomma non è un modo, un escamotage che ci riguardi. È molto complessa la questione, soprattutto perché poi ci si trova di fronte delle obiezioni che sono veramente fastidiose nella loro, non so neanche se sono in mala fede è come se dirsi contro la guerra volesse dire negare il fatto che esiste l'aggressività o che esiste la violenza. Quando fai presente che il fatto di considerare gli omicidi reati e anche peccati mortali non vuol dire che gli omicidi non avvengano più ma semplicemente che prendi una posizione e che ha maggior ragione se sei un governo, se sei un paese che si fregia del titolo di essere civile, l'Occidente di questo si vanta giustamente di avere messo la dignità umana, la vita umana al centro, intoccabile e da difendere a tutti i costi allora che siano almeno coerenti con questo. Si fregia? Sì, si fregia, si fregia, si vanta e poi però poi getta la spugna con grandignità, diceva De Andrè. Tu parlavi di conflittualità, dell'animo umano in effetti è vero, cioè la conflittualità ci deve essere anche sana. Ecco, la conflittualità interpersonale che poi sfocia in aggressività, secondo te nel corso degli ultimi anni è aumentata nel nostro contesto sociale oppure no? Ma io credo che, non lo so, sicuramente come le temperature, quando ci spiegano i meteo, che esiste una temperatura reale e una temperatura percepita. Io credo che il problema della violenza, il problema della cosiddetta sicurezza, sia molto difficile capire, scusa, che cosa è reale e che cosa invece ci viene fatto percepire. Continuo a pensare, e lo penso da donna ma anche da cittadina, quindi voglio dire, non ne faccio semplicemente una questione di genere, che in Italia e la media è più o meno quella dell'Europa, forse un pochino più alta, viene ammazzata o comunque gravemente ferita una donna ogni due giorni e mezzo, tre, e quasi sempre questi delitti avvengono all'interno della cerchia familiare o della cerchia di conoscenza. Quindi questi sono dati che fanno capire come l'incapacità di risolvere i conflitti con la mediazione o anche, come dire, con uno sfogo di aggressività che però sia contenuto non riguarda evidentemente ancora la razza umana, sicuramente non riguarda un certo modo di gestire le cose che è maschile. Non voglio fare delle polemiche femministe, però mi pare sotto gli occhi di tutti che gran parte della questione che più profondamente agita il mondo che noi chiamiamo orientale o comunque è quella, una delle questioni è il possesso e il controllo delle donne, il fatto che puoi far credere all'ultimo, degli ultimi, il più povero dei poveri, il più sfruttato di sfruttati, che comunque è ancora padrone della propria donna. E questo ci porta dove abbiamo visto. Quindi credo che quando ci dicono cosa si può fare, beh, si può cominciare veramente da qui, quotidianamente. Il problema forse è che siamo talmente omologati, ci stanno talmente omologando che all'interno delle nostre stesse famiglie, forse quello che tu definivi molto correttamente il complesso di Edipo, invece che superarsi lo stiamo esasperando. Ma oddio, alcuni psicanalisti contemporanei sostengono che la famiglia è talmente cambiata che non esiste più neanche quello che veniva chiamato il complesso di Edipo, nel senso che la famiglia almeno formalmente è passata da essere luogo appunto della conflittualità ma anche delle passioni, a luogo dell'affettività e della mediazione. E forse se questo sta avvenendo, al di là poi degli esempi che troviamo, quindi se questa è la strada potremmo proporre di adottarla anche su scala delle nazioni, no? Proviamo magari anche a raffreddare le passioni, ma a provare a portare la pietà, a portare l'ascolto, a portare l'incontro, a portare... Poi quando ci sono situazioni che non possono essere risolte in altra maniera pur di salvare le vite delle persone, che si ricorra ad altri tipi di sanzioni, ma non credo che sia veramente tollerabile, soprattutto a fronte di quello che è il dato. E cioè che io non credo che le guerre passate fossero belle, che fossero degne di essere... Però insomma che il dato rispetto alle vittime, cioè la differenza tra le vittime civili e le vittime militari sia assolutamente capovolto nel giro di cent'anni, neanche, fa riflettere. Oggi le vittime delle guerre sono per la stragrande maggioranza civili, oggi le guerre non finiscono, oggi le guerre non risolvono e quindi anche solo per un banale esame di realtà, forse verrebbe la pena di smetterla. Un'ultima domanda, poi non ti disturbo più. Dopo l'11 settembre, tu come avresti risposto, idealmente parlando ovviamente, stiamo fantasticando, nel senso che l'attacco e il contrattacco dell'Occidente a quella che pare che è stata un'ingiustizia sul suolo occidentale ti sembra adeguata ad un mondo civile oppure secondo te ci poteva essere un altro tipo di risposta? Perché senza risposta non potevamo stare, credo, no? Ma c'è una bellissima frase di Eduardo Galeano che cito spesso e che quando finalmente avevamo imparato tutte le risposte ci hanno cambiato le domande. A me sembra che questo sia un caso evidente e dolorosissimo in cui sono state cambiate le domande, sono state cambiate le questioni. Io ci tengo a dire che le vittime civili hanno lo stesso valore dovunque esse vengano provocate. Che quindi, ho sentito dire frasi come le vittime dell'11 settembre fanno il pari o pareggiano vittime di altri conflitti. Non fanno pari, aumentano. È una montagna che non finisce mai. Personalmente credo che, al di là di tutti i punti oscuri che ci sono ancora da chiarire, che semmai verranno chiariti dietro alla dinamica proprio di questo fatto spaventoso, è molto bizzarro che ritenere responsabili di questo atto infame di terrorismo delle persone che più o meno erano anche state identificate abbia portato a dichiarare guerra a uno Stato. Oltretutto abbia portato a dichiarare guerra a uno Stato per catturare il presunto responsabile che fino a sei mesi prima stava da fonti francesi in un ospedale americano dell'Arabia Saudita e che non è stato ritenuto importante farsi consegnare e che oltretutto pare essere tuttora vivo e vegeto. Alcuni sono scappati con sidecar. Cioè veramente, mi sembra, e che in momenti cruciali riesce a mandare un videomessaggio caso mai qualcuno stesse avendo strane tentazioni pacifiste, giusto per rinfocolare. Quindi mi sembra veramente che sia stata una risposta oltre che inadeguata e probabilmente errata sul piano proprio della giurisdizione internazionale, assolutamente inutile sul piano dei risultati che ha portato solo ad ancora più morti, ha una incapacità di gestire questo tipo di conflitti perché questi conflitti portano a una disgradazione tale di attitudini sociali, a una tale incapacità poi di focalizzare i nemici, sempre che di nemici veri si trattasse, che poi diventa una strage infinita, quotidiana, lenta, inesorabile, in cui davvero, e questo l'ho imparato da Emergency, l'ho imparato da questa esperienza, non solo non esistono vincitori vinti, ma non esistono buoni e cattivi. Non è che una guerra va bene e l'altra no. È proprio il momento in cui bisognerebbe dire basta, senza se e senza ma. Grazie, grazie davvero.